quante volte abbiamo sentito dire che bitcoin diventerà la cripto valuta o comunque la moneta che verrà utilizzata in futuro per qualsiasi transazione che può essere una transazione economica può essere una transazione di beni può essere una transazione di servizi bene ad oggi c'è uno strumento molto interessante che voglio presentarvi proprio in questo video che può permettervi di fare del trading su alcuni mercati che sono tra i più blasonati come il forex come le materie prime come gli indici azionari e logicamente anche nel mercato delle cripto valute e andiamo a vedere questa piattaforma che oltre ad essere molto interessante è anche una piattaforma che ha grandissime potenzialità a livello di guadagni automatici ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale io sono davide e oggi andiamo a parlare di prime x bt questa è una piattaforma di trading come può essere by nas come può essere anche coinbase ma con una particolarità molto molto interessante ossia la possibilità di utilizzare come collaterale solo e soltanto bitcoin per andare a fare trading su qualsiasi mercato poi ne andremo a vedere comunque in preciso precisamente quali sono i vari mercati e gli strumenti che vengono utilizzati prima di incominciare voglio comunque chiedervi di lasciare un like a me serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di lasciare un commento qui sotto con qualsiasi domanda e di andare a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare inoltre tutto ciò che dovrà dire non sono consigli finanziari ma sono mie opinioni personali basate su esperienza e studi fatti nel tempo prima di entrare nel vivo e guardare proprio la piattaforma come è fatta voglio dirvi che questa piattaforma ha prima di tutto due anni di anzianità anche se solo in questo periodo sta esplodendo a livello di conoscenza quindi a livello mediatico inoltre ha oltre un miliardo di liquidità ha uno spread molto basso ossia la differenza tra acquisto e vendita del medesimo prodotto e la cosa molto probabilmente più importante è quella che lavora su il mercato dei cfd ossia sono dei derivati che vanno a riprodurre l'andamento di determinati indici o comunque come possono essere le materie prima e quant'altro incominciamo subito con il vedere cosa possiamo tradare col mercato che abbiamo qui davanti quindi abbiamo bitcoin che può andare a tradare qualsiasi cripto aluta normalmente sono quelle più blasonate e capitalizzate poi abbiamo gli indici come possono essere le semplici 500 il fuzzicento il giapponese e tutti gli altri comunque indici molto molto blasonati quelli grossi come possono anche quello francese spagnolo e quant'altro poi abbiamo il forex con le maggiori accoppiate e poi abbiamo le materie prime che sono anche quelle come possesso loro l'argento e tantissime altri strumenti addentrandoci all'interno delle tariffe e condizioni vediamo subito che il deposito minimo è di 0,001 bitcoin questo perché logicamente non si può incominciare con meno di questo capitale la cosa interessante è il fatto che questa piattaforma da anche una possibilità di utilizzare la leva dai 10 per fino al 1000 per e questa leva è comunque commisurata in base alla quantità al volume che noi andiamo ad impegnare in un singolo trade quindi più è alto il volume più è bassa la percentuale un'altra cosa interessante è il fatto che abbiamo delle fee molto basse adesso ne andremo a vedere sono per esempio queste ma la cosa bella è che sul mercato delle cripto salute sapete benissimo e h24 7 giorni su 7 mentre gli indici e le commodity sapete anche che i mercati azionari classici o comunque quello finanziario non è sempre aperto aprono solo a determinate ore e chiudono in determinate ore e soprattutto giorni della settimana quindi per l'indice le commodities ci sono i vari simboli di chiama qui sopra ma sono in realtà gli strumenti e in base agli strumenti abbiamo il giorno e le ore nel quale si possono andare a fare trading quindi possono andare a fare operazioni all'interno di questi mercati con questi strumenti precisi inoltre abbiamo anche quello del forex che è il mercato insomma delle delle monete delle fiat che noi tanto odiamo ma in effetti è uno dei mercati più liquidi al mondo sul quale abbiamo la possibilità addirittura di arrivare al 1000 per come leveraggio quindi come leva prosto perché non è come il mercato delle cripto lute dove abbiamo un più 5 un più 10 al giorno o anche ogni tanto all'ora e al minuto ma abbiamo dei movimenti così tanto piccoli che per riuscire ad ottenere dei guadagni che possono essere chiamati tali c'è bisogno di utilizzare delle leve molto alte e queste sono gli orari di apertura e chiusura e i giorni nei quali possono essere insomma aperti chiusi gli mercati stessi le commissioni di prelievo sono in linea con la concorrenza sono anche fisse è una cosa molto importante questa e sono 0.0005 bitcoin quindi siamo all'interno di un intervallo di prelievo che è molto conveniente soprattutto perché se spostiamo grossi capitali rimane comunque sempre quello come percentuale di transazione il mercato insomma delle commissioni sul mercato delle criptovalute è 0,05 per cento di commissione per ogni trade abbiamo logicamente la possibilità di fare i trade tra un giorno e l'altro ma dobbiamo pagare le overnight fees questo perché perché come vi ho detto andiamo a utilizzare dei cfd che sono dei derivati che vanno a replicare il movimento di determinati indici o comunque strumenti finanziari e questi strumenti finanziari se vengono utilizzati anche nella notte richiedono un pagamento di una determinata fee e questo purtroppo è un qualcosa che viene utilizzato solo e soltanto con i cfd questo però è anche un qualcosa che dà la possibilità di poter utilizzare bitcoin come collaterale invece di utilizzare magari le fiat e inoltre in questo periodo andare a utilizzare il bitcoin come collaterale è un qualcosa di interessantissimo proprio perché sia nel caso in cui guadagnate che nel caso in cui perdete andate sempre utilizzare il bitcoin che aumenta di valore e quindi il momento in cui andate a guadagnare e siete molto bravi riuscite anche ad avere un incremento ulteriore sulla criptovaluta ci sono dei limiti di trading a seconda delle coppie che noi andiamo a utilizzare che possono essere limiti massimi o limiti minimi questo perché c'è bisogno di un minimo di transazione per anzi di volume per andare a fare una determinata transazione i requisiti dei margini lo possiamo vedere qui all'interno hanno determinati leveraggi come vi stavo dicendo proprio prima i requisiti di margine sono l'un per cento con uno a cento il 5 per cento con l'uno a 20 e il 10 per cento con l'uno a 10 anche nelle accopiate delle criptovalute potete benissimo vedere quali sono le varie proporzioni che possono essere utilizzate insieme ai leveraggio logicamente il leveraggio deve essere sempre commisurato a seconda dell'utilizzo che noi ne andiamo a fare possiamo anche vedere il mercato degli indici e delle commodities e anche in questo caso vediamo benissimo quali sono le varie percentuali di leveraggio che possono variare a seconda sempre dello strumento e giusto per per informare gli indici sono per esempio l'S&P 500 e quant'altro quindi indici che vanno a replicare l'andamento di un singolo mercato di una singola nazione le commodities invece sono gli strumenti che vanno a replicare l'andamento dei delle materie prime che possono essere il gas possono essere per esempio anche il barile di petrolio per esempio UK brand us crude oppure ci sono anche l'oro e l'argento e quant'altro mentre i forex come vi avevo già detto prima sono degli strumenti che vanno sempre forex cfd sono degli strumenti che vanno a replicare quindi l'andamento della differenza di valore tra una valuta fiat e un'altra valuta fiat e qui per esempio possiamo vedere l'euro contro il dollaro australiano l'euro contro il dollaro canadese l'euro contro il lo Swiss franc quindi il franco svizzero e tantissimi altri che insomma sono veramente tanti io non ho mai utilizzato queste questi strumenti cui finanziari per andare a fare trading ma da quando ho scoperto scoperto questa piattaforma ho incominciato ad avvicinarmi proprio per incominciare a capire come funzionano e in un futuro voglio portare infatti proprio di video dedicati proprio a queste transazioni andiamo direttamente poi al succo della piattaforma prima di tutto prima di andare magari a crearvi un account vi voglio dire che c'è la possibilità di utilizzare il mio referral link con dei promo codes che vi metto sotto in descrizione comunque uno è davide 25 e l'altro è davide 50 con davide 25 avete un 25 per cento di sconto sulle fees di transazione mentre con davide 50 avete la possibilità di ottenere un più 50 per cento sul vostro capitale che andate a ricaricare all'interno della piattaforma poi andrete comunque a seguire tutte le informazioni che sono in descrizione per capire perfettamente come si utilizzano questi due codici i due codici comunque basta andare in account codice promozionale inserire il codice promozionale e da qui avrete la possibilità insomma di ottenere proprio quello che vi stavo dicendo ma torniamo a vedere l'interfaccia di questa piattaforma che con molto piacere devo dirvi che integra trading view quindi sapete benissimo trading view io lo utilizzo per andare a fare analisi tecnica ma la cosa ottimale di trading view che è impostato viene utilizzato all'interno di prime xbt è il fatto che trading view non è la versione base ma è la versione pro e quindi avete la possibilità di poter inserire tantissimi indici e in questa maniera avete anche possibilità di poter utilizzare molti strumenti finanziari che nel caso in cui dovesse andare a utilizzare trading view in maniera quella base quindi senza abbonamento non potete per esempio le rsi o comunque le onde di bolling sono tantissime tantissimi indici che potete utilizzare in maniera totalmente gratuita anche soltanto per andare a fare una analisi tecnica del mercato andate qui sopra su prime xbt e utilizzate questi strumenti senza obbligatoriamente andare a fare del trading sopra la piattaforma un'altra cosa interessante qui vedete comunque l'order book un'altra cosa interessante è il fatto che abbiamo un grafico che può essere splittato in più su più mercati quindi abbiamo per esempio qui il mercato del crude oil quindi del petrolio abbiamo qui il mercato del forex abbiamo qui il mercato della cripto valute e qui abbiamo il mercato degli indici azionari in questa maniera possiamo tenere sott'occhio tantissime piattaforme e quindi tantissime transazioni che possono interessarci più o meno ed è una cosa eccezionale proprio perché in questa maniera possiamo guardare cosa sta succedendo al mercato e come andare a operare se su una parte una piattaforma piuttosto che su un'altra la cosa che volevo mostrarvi inoltre era lo spread ossia la differenza tra acquisto e offerta della medesima del medesimo strumento quindi in questo caso siamo su bitcoin usd e vediamo che è dello 0.6 per cento lo spread poi andiamo sul sp 500 e vediamo che del 5 lo spread stiamo parlando veramente di inezie poi possiamo andare sul usd quindi dollaro statunitense statunitense e dollaro canadese quindi il forex vediamo che è 7 e poi andiamo sul brand il barile di petrolio della inglese e vediamo che è 30 quindi sono veramente veramente molto bassi in questo caso quindi la piattaforma non mangia sopra a questa cosa precisa un'altra roba interessante il fatto di poter utilizzare una tipologia di diciamo scommessa pura scommessa ossia non so se avete mai sentito nominare le opzioni binarie le opzioni binarie non sono nient'altro che praticamente una scommessa sull'andamento del prezzo per esempio se io dovessi scacciare qui in questo momento avrei messo come possibilità che tra dieci minuti il valore del bitcoin salirà sopra questo livello di prezzo nel caso in cui dovessi guadagnarci guadagnare il più 70 per cento nel caso in cui dovessi invece perdere perderei tutto quello che ho impuntato e insomma è un qualcosa che è praticamente pari alla scommessa ma se dovete acquistare un gratta e vinci dal mio punto di vista conviene più investire due tre minuti della vostra vita qui sopra invece che il gratta e vinci perché almeno qui avete realmente la possibilità di guadagnarci qualcosa un'altra parte questa è praticamente il sogno di tutti i trader ossia il covesting non è nient'altro che la possibilità di investire una determinata quantità di cripto luta che logicamente qui stiamo parlando sempre di bitcoin su un singolo trader cosa significa ci sono tantissime persone che hanno la condivisione dei propri trading e nel momento in cui c'è un qualcuno che ha una profittevolezza molto molto alta abbiamo la possibilità di investire su di lui e quindi far sì che tutti i suoi trade vengano copiati anche dal nostro portfolio e in questa maniera abbiamo la possibilità di guadagnare delle percentuali molto interessanti guardate per esempio totale guadagnato quest'account ha guadagnato il più 1396,56 per cento guadagno di oggi è un meno 22 ma c'è anche da tenere presente il fatto che i giorni di attività sono 7 quindi da 7 giorni ha guadagnato già il più 1396 per cento ma bisogna anche capire che in sette giorni magari viene da bene una transazione a 575 follower il rendimento è questo quindi in crescita e l'equity dei follower quindi cosa significa il ciò che lui sta muovendo e momentaneamente quasi sei bitcoin la valutazione invece uno proprio perché per arrivare a una valutazione di 5 c'è bisogno di seguire determinati step per esempio uno degli step che dal mio punto di vista è quello più importante è il patrimonio netto del gestore è maggiore o uguale a 0,5 bitcoin questo perché se l'investitore non dovesse neanche investire 0,5 bitcoin dal mio punto di vista sarebbe un po' rischioso andare ad investire i nostri soldi all'interno di una strategia di trading di un investitore che potrebbe essere sicuramente uno bravo ma io prendo sempre delle dei punti fissi sapete benissimo sono molto schematico come persona e la cosa che vado a guardare prima di tutto sono i giorni di attività e poi il guadagno totale e soprattutto poi la valutazione e deve sempre avere almeno uno 0,5 bitcoin investiti dal mio punto di vista questi sono i tre parametri da tenere sempre sott'occhio più giorni è stato all'interno della piattaforma più giorni è stato profittevole all'interno della piattaforma e più ha investito più ci si può fidare di quel trader comunque sappiate benissimo che si può guadagnare in maniera automatica è totalmente slegata dal proprio tempo ma è anche vero che stiamo delegando i nostri soldi a un'altra persona che non conosciamo qui invece c'è un'ultima possibilità utilizzare questa piattaforma per andare a fare trading con praticamente la versione come vi stavo dicendo di trading view in maniera un po più estesa con varie vari indici che possono essere utilizzati qui sopra invece che dove abbiamo visto qui che magari è un po più piccolo il grafico ultima cosa che volevo mostrare era l'account quindi la possibilità di poter vedere come sta andando il nostro andamento del portafoglio quindi come vi stavo dicendo c'è il riepilogo con il conto il logicamente la possibilità di investire dei nostri soldi insomma di depositare scusate dei nostri soldi all'interno della piattaforma della possibilità di ricevere dei soldi dai nostri referral la possibilità di prelevare e la possibilità di utilizzare i promo codes che vi ho fatto vedere prima e alcune impostazioni che potete modificare a seconda di quello che volete e ultima cosa non per importanza è il fatto di poter inserire in maniera molto semplice e veloce le transazioni all'interno della piattaforma in questa maniera cliccando sul tasto destro qui sopra andrete tranquillamente a inserire o il giorno o il l'orario gtc quindi di a seconda del fusola insomma che volete inserire e ci sono le varie possibilità market quindi acquisto market limit con delle impostazioni migliori stop con dei punti focali di blocco e osio con la possibilità di poter andare a impostare alcune alcuni parametri per andare ad acquistare in maniera un po più precisa invece che andare acquistare direttamente a mercato e questa piattaforma è la piattaforma di trading di prime xbt la prima piattaforma sulla quale si può utilizzare come collaterale per andare a fare trading su altri mercati mercati finanziari più importanti il bitcoin come collaterale quindi la possibilità di far fruttare bitcoin e in una maniera differente rispetto a quella che noi abbiamo ancora tutt'oggi ossia quella di andare magari a investirla su bloc fai o nexo e quant'altro in questa piattaforma semplicemente potete anche soltanto andare a fare del covesting e quindi dedicare una piccola parte del vostro capitale per andare a guadagnare in maniera totalmente slegata dal vostro tempo delle percentuali di criptovaluta in base alle transazioni che vengono fatte da un trader molto più profittevole sicuramente di voi bene ragazzi io spero di essere stato chiaro e limpido anche in questa spiegazione vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivervi al canale attiva la campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare e andare a visitare il mio account instagram davidevasco 85 vi ricordo che ci sono due promo codes uno da 25 per cento in meno sulle transazioni e un altro invece vi da il più 50 per cento sul vostro capitale investito andando a seguire una determinata struttura di passaggi io vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi